Ehi, mi dai una mano con il bilanciere? Ha chiesto all'improvviso senza neppure conoscermi. Mi sono alzato dalla macchina con la quale mi stavo allenando e sono andato alla sopanca per aiutarlo. Praticamente gli sono rimasto attaccato con una cozza allo scoglio fino a quando, dopo la doccia, mi ha salutato informandomi che sarebbe andato dalla fidanzata e concludendo con un A proposito, mi chiamò Jesus. Quando è uscito dallo spogliatoio mi sono accorto che aveva dimenticato nell'armadietto le mutande. Grazie a tutti.